Il sapore della prevenzione, una food experience formativa e informativa questa sera a Ferrara per lanciare un tema importante, il legame tra cibo, alimentazione e prevenzione dei tumori. Un evento voluto fortemente dal PDTA, che è il percorso terapeutico e assistenziale voluto dall'azienda ospedaliere, azienda USL di Ferrara. Ne parliamo con il professor Frassoldati per lanciare una volta di più l'importanza di questo tema nell'ottobre rosa, mese della prevenzione. Ricordiamoci che quasi il 30% dei casi di tumore mammario hanno probabilmente una causa legata all'alimentazione. Questo dato è di per sé sufficiente per far capire quanto sia importante cercare di puntare l'attenzione degli specialisti e soprattutto delle persone, degli utenti, dei comuni cittadini su questa cosa perché effettivamente ciascuno di noi può, seppure poco, fare qualcosa in questo senso per cercare di ridurre l'incidenza del tumore. E attraverso un adeguato stile alimentare, attraverso la scelta di alimenti con proprietà specifiche di tipo protettivo unite ad una modalità di presentazione e di preparazione tale da renderle gradevoli sicuramente è un buon modo per cercare di andare in questa direzione. Grazie.